Siamo a Dubisa, siamo a due ore da Deblisi, stiamo tornando adesso da Kutaisi, ci siamo fermati in uno dei tanti ristoranti che ci sono sulla strada, questo è buonissimo, abbiamo mangiato dei zvadi fatti davvero buoni, c'è una vista da qua spettacolare, ovviamente la Giorgia, come dico sempre, è un paese verdissimo, lì c'è una vecchia chiesa, la vecchia chiesa di Ubbisa, e niente ragazzi, cioè volete mettere, mangiare, abbiamo speso 10 lari a testa, ci siamo scopanati, insomma, con i miei colleghi, di lavoro, e niente, questa è Ubbisa, guardate che bello, qua già hanno mangiato, Ciao, 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 i miei colleghi, siamo scopanati mezzo mondo, e mo, torniamo a casa. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.